Giornata importante oggi per l'Abruzzo, per la protezione civile. La Regione ha adottato una delibera fondamentale per migliorare il comparto della protezione civile, che è un comparto già di per sé molto molto importante. Siamo la seconda, terza Regione che istituisce un'agenzia regionale di protezione civile, un'agenzia che servirà per rendere più snella, meno burocratizzata, meno farraginosa tutta la filiera della protezione civile. È importante perché ci sarà anche un'attività di formazione molto spiccata, peraltro per volere il Presidente la protezione civile diventerà anche formazione curriculare nelle scuole e quindi si andrà in una direzione innovativa, più veloce, più spigliata, che ha trovato già un sentimento favorevole da parte delle tante associazioni di volontariato che nella nostra Regione operano e fanno un'attività altamente meritoria. Chiudo dicendo che ci sarà un ulteriore, non una natura giuridica differente, ma ci sarà un'autonomia da parte della protezione civile, che quindi questa agenzia avrà anche la possibilità di spendere soldi, senza chiedere permessi preventivi e quindi si riuscirà in maniera più funzionale e dinamica sia nella fase di prevenzione del rischio, ma anche nella fase della gestione e della risoluzione del problema atteso che in Abruzzo, ahimè, oramai già da troppi anni si hanno eventi calamitosi.